Quanta gente mi porti? Quanti tavoli mi fai? Ma il DJ deve portare gente? Ciao sono Claude e prima o poi bisognava affrontare questo argomento, se il DJ deve fare il DJ o se deve fare il PR, cioè se deve portare gente per suonare. Andiamo a vedere come affrontare la situazione. Bene, andiamo a levarci sto dente che tanto che è lì e sta ciondolando il dente del PR o DJ, cioè se il DJ deve portare gente al momento sembra che ci sia questo ricatto in atto da parte dei proprietari, dei gestori, dell'organizzatore degli eventi, dai gruppi di pubbliche relazioni che spesso obbligano il DJ ricattandole, dicendoli, cioè ricattando alla fine un ricatto, dicendo vuoi suonare devi portare x persone, devi fare x tavoli. Ecco questa è la realtà ultimamente sempre più perpetrata ma che si protrae da più di 15 anni questa cosa piano piano, poi è diventato veramente un virus peggio di quello che abbiamo adesso. Purtroppo sembra la realtà, il DJ deve fare anche il PR, quindi sei il PR DJ anche se non porti i biglietti magari e vieni chiamato spesso qua in questa zona, io dico anche quelle che abbiamo coniato noi, è DJ Pullman, Postino, DJ Navetta, DJ Geppetto perché fai tavoli, ecco queste sono quelle che conosco io, magari aggiungete nei commenti quelle che conoscete voi e ragioniamo un po' sul fatto. Secondo voi il PR deve fare il PR, il DJ deve fare il DJ, le categorie devono essere ben distinte, oppure visti i tempi, la crisi è tutto, bisogna adattarsi e far di tutto. No perché un idraulico se non sa cosa fare, magari a casa, si improvvisa pasticcere insieme alla moglie che lo coinvolge in una bake-off session, perché se no l'idraulico fa l'idraulico, altrimenti fa danni a fare il pasticcere come se il pasticcere facesse l'idraulico, ed infatti i danni poi si vedono, li abbiamo visti nel tempo. Io cito una frase storica detta ad un proprietario quando fece la domanda, ma quanta gente riesce a portarmi per riempirmi il locale? E la risposta fu, ma se avessi tutta sta gente, ma mi aprirei un locale per i fatti miei, no? Ecco, questa veramente sarebbe la risposta da dare a tutti i proprietari, ma io non voglio dirvi questo, non mi prendo questa responsabilità, non ditela, perché se magari vi giocate anche quella piccola possibilità che avete, soprattutto quelli che iniziano. Poi ci sono cose che a noi, magari di una certa età, possono far arrabbiare ed essere incongruenti al momento, però purtroppo, come so e sento anche dai ragazzi che cominciano adesso, la domanda che mi fanno spesso è, ma a me mi hanno chiesto di portare gente, altrimenti non mi fanno suonare. Claude, cosa devo fare? Te cosa faresti? Ecco, io cosa farei, te l'ho già detto nella risposta che ho dato, però non è attendibile, perché il momento adesso lo state vivendo voi, mi dispiace questa cosa qua, però bisogna anche fare delle considerazioni. Questa purtroppo è un'usanza che io sento ormai da 15 anni e passa e sembra andare sempre più verso il peggio. Molti DJ che iniziano adesso si trovano davanti a questo bivio e spesso mi chiedono consigli su come fare. Magari ci saranno anche molti di voi in questa condizione che stanno guardando il video in questo momento. Chiaramente io ho una visione diversa da DJ essendo in questo settore da tantissimo tempo, ma non per questo non capisco l'evoluzione del mercato e dicono a questa cosa a meno che non ci sia una collaborazione e non uno sfruttamento o di un ricatto vero e proprio. Questo è il mio consiglio. È anche vero che i tempi sono cambiati ormai da 20 anni e ogni DJ deve essere artefice del proprio destino, incluso anche il marketing. Penso che un buon DJ debba sapere intrattenere le pubbliche relazioni per se stesso ed essere anche un buon venditore per chi ci riesce, non di fumo. Attenzione, la maggior parte purtroppo è così. Penso che sia importante stare sul pezzo, tessere una buona trama di connessioni utili nel settore in modo da ritrovarsi nella situazione giusta al momento giusto. Chiaramente la timidezza non aiuta. Era anche il mio caso quando ho iniziato, poi mano a mano l'ho persa. Almeno non agli inizi non è premiata. Semmai la spavalderia, che però alla distanza può essere un prezzo caro da pagare alla resa dei conti se sotto non c'è sostanza, cioè il famoso fumo che vendi. Una cosa è essere obbligati a raccattare gente in giro, a fare i tavoli per forza, essere ricattati per poter suonare e mettersi in competizione con altri pseudo-DJ che magari tecnicamente e di testa sono delle pippe, ma sono più bravi di te a portare gente. Ed infatti fanno i PR. Ed è bene che continuino a farlo, sarebbe meglio continuassero a farlo, però hanno in testa di fare DJ per farsi vedere, perché fai il PR e non puoi fare il figo sui social, ma fare il DJ sì. Però l'altra cosa è portare gente per i fatti tuoi. Cioè se io faccio una serata è chiaro che il mio interesse far venire i miei amici, i miei parenti o chi mi conosce per far bella figura. Quindi convogliare tutto il mio indotto, tutti quelli che mi seguono, per far sì che ci sia un bel movimento quando io suono e farli sentire, perché un po' il DJ è egocentrico quello che so fare, no? Cioè in genere tutti cominciamo così, vogliamo far sentire le nostre capacità. Ma questo è ovvio, cioè io te lo porto normalmente anche se non me lo chiedi, perché è mio interesse, però l'obbligo e il ricatto è un'altra cosa. I grandi nomi portano gente. È ovvio, è per questo che vengono chiamati ed il loro cachet è adeguato a questo. Cioè chiamate un guetta, un tiesto, un Bob Sinclair o quello che volete, vi riempie il locale a fronte di un compenso esagerato. Ma questo è il caso opposto, cioè il DJ è già arrivato, è una superstar, una pop star, una rock star, quello che volete. Quindi è ovvio che abbia un suo seguito, ma non li porta lui, non li chiama lui direttamente. E la sua fama è tutto il suo percorso musicale che ha permesso ciò. Però per arrivare a lì ce ne passa di acqua sotto i ponti. E quindi hanno tutto un movimento dietro di agenzie che li promuovono, fanno creatori di eventi che poi alla fine chiamano quello perché quello riempie e fa il famoso sold out per quell'evento o per quel festival. Agenzie per DJ in erba non ce ne sono, per DJ non conosciuti non ce ne sono, non ce ne sono mai state quelle che trovate e probabilmente cercano di fottervi dei soldi. Quelle che c'erano trattavano solo DJ particolari, cioè magari con determinate caratteristiche che all'epoca non si trovavano, adesso c'è un po' tutto flat, un po' tutto piatto e tutti uguali, colpa della globalizzazione. E le agenzie trattano solamente i DJ famosi oppure i celebrities DJ famosi, i vacchi e company, anche qui affronteremo il tema singolarmente. Beh ragazzi sono bravo anch'io a vendere David Guetta, Tiesto o Bob Sinclair. È duro far capire al gestore le potenzialità di una nuova star che ancora non è star, cioè tu sei bravo, lo sai, ma lo devi dimostrare e nessuno ti dà la possibilità di emergere. È questo che dovrebbe fare un impresario serio, un'agenzia seria, perché poi a vendere i grossi nomi, ti ripeto, sono bravo io, sei bravo te, sono bravi tutti perché metti il catalogo, scegli quello, scegli quello, scegli quell'altro, quant'è questo, questo 50, questo 30, questo 10, percentuale e metto in tasca i soldi. L'unico modo che posso consigliarvi io per uscire da questo tunnel del PR DJ è che quello da sempre più redditizio alla distanza è creare il tuo stile, la tua fama, il tuo brand particolare, in modo da farti riconoscere, e farti seguire per quel che fai, che sia musicale, show, live set, tutto quello che hai nel tuo bagaglio culturale e artistico, in modo da farti riconoscere, farti seguire per quel che fai, non perché devi martoriare le persone su Facebook o su Instagram, chiamarle e non cedere alle prostituzioni o alle sirene dei finti art director PR che magari si improvvisano e pur di farsi valere l'ora e mettersi in tasca dei soldi sfruttano la tua voglia, la tua passione, la tua carica emotiva per suonare, la voglia di suonare e ti obbligano a prendere gente per far loro bella figura. Pur di riempire i loro fantomatici tavoli da una boccia di gin in 87 persone per poi farsi i selfie e le stories baciando le bottiglie e imitando lo stile dei ricchi, cioè una roba penosa che veramente mi viene voglia ogni volta che li vede e me li ritrovo dietro la console di tirargli il controller in testa e questo veramente è terribile. Associarsi a staff di PR o organizzazioni di eventi può essere giusto, però con il rispetto dei ruoli e facendo sì che ci sia collaborazione e crescita. Poi uno aiuta anche a portare gente se serve, ma non solo a quello. Chiaramente se sei in una squadra e ti chiedono un favore, guarda dammi una mano perché ho da riempire un tavolo, fai di tutto perché sai che è la tua squadra, ci tieni. Ma no, come ho visto io molto spesso in riunioni che il PR di turno davanti ai dieci ragazzi dice ragazzi chi di voi mi porta più persone stasera suona, gli altri non suonano. Io mi sono alzato e me ne sono andato per non offenderlo perché questa cosa qua per me è un ricatto bello e buono. È vero che i compromessi nella vita vanno fatti ma i ricatti sono veramente brutti e meschini. Ma poi quanta gente puoi portare se fai più serate a settimana? Non è che le persone le puoi invitare a tutti gli eventi in cui suoni e poi non è detto che vi seguano. Semmai è importante costruirsi una serie a rete di contatti fra le persone che hanno piacere di ascoltarti comunque, ovunque sia, devono sentirti, cioè fra il pubblico. Quando ti ha ascoltato dici ah cavolo tizio è bravo però io lo seguo anche nel locale di qua perché lui fa della musica particolare. Questo è un buon modo per farsi valere però manca lo scattino cioè come entro, come mi faccio sentire e sta lì il problema perché i proprietari lo sanno che il tuo unico veicolo di trasmissione dei tuoi dati, della tua musica al pubblico è la console del locale e lui ci marcia sopra. Lui dico intendo il gestore come il proprietario, come l'art director, come l'organizzatore degli eventi. Questo va debellato. Sta a voi smontarlo tutto insieme perché fino a quando aderirete sarete sfruttati ed il mercato non crescerà mai. Prostituirsi per suonare è un po' darvi la zappa sui piedi. Ammazzate il mercato soprattutto per chi ci mangia veramente consente di far calare i prezzi allo zero quindi inflazione totale, i prezzi dei cachet come già è arrivato adesso fino allo zero ma non solo anche sotto lo zero perché molti pagano per suonare come già detto pur di farsi le stories e le foto e far vedere che suonano perché qui attenzione qui parte il discorso dell'immagine piuttosto che la passione. I veri dj hanno passione, è vero che magari vanno per pochi soldi pur di suonare quello ok però non vanno gratis pur di farsi una storia su instagram. Quella non è passione, quella è egocentrismo, quella è mania di protagonismo ma all'ennesima potenza. Attenzione non sono scemi dj's, quelli che hanno delle patologie è un altro discorso ma non sono di loro gli scemi perché ovviamente loro lo fanno per l'immagine finta e distorta da proiettare nel mondo dei social ma quello è un altro discorso che non ha niente a che fare con il mondo dei dj's anche se lo occupa ma il vero problema sono i proprietari, gli art director che fanno guidare la loro macchina a gente senza patente e spesso senza capacità. Patente intendo anche regolarità, attenzione perché se ti fermano senza regolarità e senza patente è idem nel nostro mondo. La capacità intendo anche l'esperienza cioè conoscenza musicale, conoscenza della console oppure affidabilità che questo magari gli dai la console ma poi all'ultimo momento non viene perché esce con la bellona di turno e quindi ti pianta lì. Tu la faresti guidare la tua macchina a un autista pur di avere l'autista e fargliela guidare e poi te la sbatte da tutte le parti e ti fa più danni della grandine? Sinceramente non credo. Infatti i danni da 30 anni a questa parte si sono visti e adesso sono rimasti coach ed è per questo che adesso è in atto la guerra dei poveri a combattere le briciole di questi rimasugli compresi molti miei colleghi anche professionisti cioè che ci mangiano e sono costretti costretti a giocare in promozione dopo aver giocato in champions league e magari a combattersi il posto con chi lo fa così per arrotondare. Quindi è per quello che nasce la guerra dei poveri ora magari c'è anche gente brava che va a 50 euro 100 euro e quello è il problema. Così è il mercato adesso che ci piaccia o no. Sta a voi come ho detto smontarlo tutti insieme perché fino a quando direte sì a questa formula non si costruirà niente. Però quello che posso dirvi io è che non sempre la via più breve è quella che porta prima al risultato anzi quasi mai. Certo l'aiuto la botta di culo. Conta come in qualsiasi campo cioè la fortuna la spinta la conoscenza ragazzi ma la qualità e non la quantità non paga subito. È così e poi alla lunga compassione perseveranza umiltà emozioni avrete il vostro risultato piccolo o grande che sia. E poi non dimenticatevi che quando andate a suonare avete in mano la musica. La musica è il nostro più grande strumento di passione. Con la musica non si scherza. Non si svende questa cosa. Non si svende la passione. Però ricapitolando quello che vi dico suonare a ricatto no. Però può essere giusto portare gente nei giusti termini. Quindi se c'è una collaborazione con un gruppo di pubbliche relazioni una squadra ok. Nei termini del ricatto e della prostituzione secondo me non è giusto. E a voi che succede? Ci siete dentro questo vortice o fortunatamente siete riusciti a bypassarlo? A superarlo? Avete la vostra rete di contatti? Vi è capitata all'inizio ma adesso siete cresciuti? Fatemi sapere che cosa vi è successo? Qual è la vostra situazione attuale? Cosa ne pensate? Questo è un argomento abbastanza toccante perché io capisco veramente la situazione di molti dj che cominciano ma non solo quelli che iniziano perché il problema sembra essere radicato anche a quelli che sono già in stadio avanzato come dj quindi che lo fanno da molti anni e sono coinvolti magari anche loro in questo tritacarne del suonare ricattando e fare i pr per altri pur di suonare. Ricordatevi che il pr lo potete fare ma se è il pr di voi stessi o della vostra squadra. Non fare il pr per fare il dj questa è la mia opinione poi ognuno la pensa come vuole io non sto a sindacare contro chi fa serate a zero prezzo o contro chi fa il pr e poi fa il dj chiaramente con questo video mi sarò inimicato tutte le categorie di pubbliche relazioni però c'è il mio pensiero chi mi conosce lo sa anzi vedi non mi chiamano neanche perché sanno come la penso al riguardo però vorrei sapere da voi se questa cosa è una cosa che accettate di buon grado cioè che a voi vi sta bene chi se ne frega va bene così adesso i tempi sono cambiati il dj deve fare anche il pr oppure se la subite se la state subendo questo è un altro discorso bene devo ricordarvi dei corsi per dj corsi dj producer.com dove potrete approfondire tutte queste tematiche non sono queste qua delle chiacchiere dj o pr ma proprio dei corsi per virtual per tractor per record box sui vinili sui lettori cdj oppure sui corsi di produzione musicale con cubase e doubleton potete compilare il form nella sezione contatti per mettervi in contatto con me anche per consulenze private per i vostri problemucci o per lezioni online per quelli che non sono della mia zona canale youtube sos4dj se ancora non l'hai fatto iscriviti 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 perché noi abbiamo bisogno di crescere darvi sempre tanti consigli come questo parlandone interagendo insieme perché questa è una community offrendovi nuovi tutorial nuovi spoiler sulle macchine tecnologiche che usate del vostro mondo attivate la campanella mettete un like condividete sui social con i vostri amici questo video se vi è piaciuto e inoltre se pensi che qui ci sia del lavoro e ti assicuro che c'è che ci stiamo facendo un mazzo tanto puoi sostenere sos4dj con questo tasto offrendoci una birretta una bibita una spuma una coca una casa in centro vicinissimo allo stadio oppure una bella macchina nuova fiammante dai da un milione di euro a 0,50 centesimi potete offrirci tutto questo è per farci capire che siete lì e che perorate la nostra causa il nostro sforzo questo argomento toccante andava affrontato prima o poi e come avete visto l'abbiamo affrontato un po a gamba tesa però dicendo la verità ragazzi a me piace sempre dire la verità nel massimo del rispetto e cercando di capire le opinioni di ognuno poi come vi dico sempre ogni testa ha un cervello quindi la pensiamo tutti in maniera diversa per fortuna però sono curioso di sapere come vivete voi questa situazione se l'avete incontrata fatemelo sapere qua nei commenti iscrivetevi al canale io vi auguro una buona giornata sosteneteci sempre e da parte di sos4dj cloud ciao 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 statemi bene ciao ciao